Magari. Ricorso rigettato. Francesco Zampano salterà i match contro Chievo e Sampdoria. Tutto è nato dal polverone sollevato da preziosi. Il procuratore federale ha agito di conseguenza. I rati di Pistoia ha dichiarato di non aver visto nulla. Il giudice sportivo ha applicato la prova televisiva. Condotta gravemente antisportiva, ovvero dolo. In realtà, come si vince dalle immagini, si è trattato di un gesto estintivo. Dunque involontario, dopo che il pallone, deviato da Ocampos, aveva toccato la coscia del calciatore Benchazzurro. L'istinto cozza, stride palesemente col concetto di dolo. Zampano è stato ascoltato a Roma dai giudici della Corte d'Appello federale, ma non c'è stato verso. L'ennesima conferma che i poteri forti non risiedono a Pescara. Insomma, ingiustizia è fatta. Volontariamente mi picchia il suo braccio, ma che era attaccato al corpo.